Ciao a tutti, in questa bellissima esperienza di campagna elettorale ho avuto modo non solo di toccare tutti i comuni che risiedono nel mio collegio, almeno quasi, ma soprattutto ho avuto modo di conoscere le persone di questi posti, persone che mi hanno accolto con tanto calore e con tanta simpatia. Adesso vorrei rivedervi tutti e per questo vi invito venerdì 2 marzo alle 18.30 presso il Cineteatro La Providenza di Vallo della Lucania per passare appunto un'ultima serata insieme in chiusura di questa campagna elettorale. Sarò accompagnata come spesso sono dal grande avvocato Castiello e spero di vedervi numerosi, mi raccomando non mancate.